Oh, vedete? Vedete che bello? Aspetta, aspetta, accendiamo un po' più luminoso, un po' bello sfondato, andiamo, andiamo, vieni, vieni, qua guardiamo che ci sta, guarda, aspetta, marciapiede 20 centimetri, guarda, vieni, vieni, punnezza qua, vieni, 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 andiamo a vedere, vediamo che trovo il sorcio, che qui è pieno, è pieno di sorci, guarda, guarda, dimmi te se ti pare una cosa possibile, io dico se è possibile nel 2021 averci questa merda a Roma, a via di Torrevecchia, guarda, vieni, vieni, guarda qua che giungla, guarda che giungla che c'è, un'altra casa abbandonata, le case chiuse, guarda, guarda, aspetta, guarda, guarda che roba, monnezza qua dentro è pieno di monnezza, mo ve lo faccio del giorno poi, meno ve lo rimando del giorno, fra sei mesi, vanno a stare per rotare, 18 metri, guarda, guarda, qua c'è un asilo nito, eh, aperto e chiuso la parentesi, asilo nito, ecco, guarda, ha aggiunta raggi, l'ha aggiunta raggi, guarda le siepi, questa non so siepi, questi sono rovi, è tutto pieno, dentro è tutto pieno di rovi, così alti, i sorci a sta signora gli arrivano dentro al bancone, continuazione, avete rotti i coglioni, non so più in che lingua di pelo.